Ah, ti devo salutare. Via, 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 via. Non troppo dentro. Bravo, putelli! Cap, cap, cap! A Juniors! Sí, sí, sí! Sí, sí, sí! No! Bravo! 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 Vai, Jerry! Accelalo, Jerry! Accelalo, Jerry! Puttalo, puttalo in aria! Tenilo a blocco! Tenilo a blocco! Tenilo a blocco! Tegre, fai gol! Bravo! Bravo! Marco! Marco! Fai! 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 Via, via! Via! Fuori! Fuori! È finita! Con l'altra! Tepice! Colcia, colcia! Punta play, punta play! Dentro, bene! È giù! Intra! Vediamoci un po'! Merch! 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 Sìììììììììììììììììììììììììì! Ma come si tratta? Ma come si tratta? Ma come si tratta o quello del genere?